Feliz Navidad! Guardate quanti regali! Non c'è niente di meglio di una pila di regali da scartare alta come un orso polari! Sante saette! Questo qui è per me! Esatto! Mi sono divertita talmente tanto a fare i regali di annucca con te, Bolt, che ho deciso di farne uno di Natale a tutti quanti! Oh, le vacanze mi rendono ben incontenamente felice! Posso aprirlo? No, Bolt! Bolt, è tradizione di Hop Springs aprire i doni solo allo scambio di regali durante la cerimonia di accensione dell'albero! Giusto! I regali si aprono dopo che avrò acceso l'albero! Sì, sì, sì! Bolt! Bolt! La folla è in delirio! Bolt! Urlano il mio nome! Sono io! Bolt! Grazie, vi ringrazio! Bolt! Sì? Accendi l'albero, non l'insegnante! Ups! Scusa, signor Ernesto! Sì sì! 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 Sì!